Max Inchiesta su traffico di droga ha inflitto 25 condanne a proda in appello del processo Demetra. Un'operazione sviluppata dalla squadra mobile in sinergia con la compagnia carabiniera di Siracusa in un arco temporale che va dal 2016 al 2019. Proda in appello del processo Demetra che ha portato un anno fa a 25 pesantissime condanne con rito abbreviato per traffico di droga a Siracusa. Il processo si è aperto dinanzi alla terza sezione penale della Corte d'Appello di Catania e si definirà per la maggior parte degli imputati con un concordato il 29 giugno concordato che per alcuni deve ancora essere definito. È il processo che scaturisce dalla Max Inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Catania Ignazio Fonso e dai sostituti procuratore Alessandro Larosa e Alessandro Sorrentino indagine che è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Siracusa sulla piazza di spaccio di Via Italia e dai polizzotti della squadra mobile siracusana sul gruppo operante in piazza San Metodio. Il blitz invece risale al 3 settembre del 2020 per accuse a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata dal traffico di droga, estorsione aggravante e ipotesi minori. Si deciderà in appello dunque sul caso che è giunto a sentenza in primo grado un anno fa direnze del gruppo Carla Aurora Valenti. 20 anni di reclusione ciascuno in continuazione sono state inflitte a Daniele Cassi, Angelo Drago e Corrado Greco, ritenuti tra i promotori dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. 18 anni e mezzo di reclusione ad Alessio Visicale, 14 anni e 8 mesi a Nicola Scassia, 12 anni e 6 mesi a Enzo Fabio Vinci, 11 anni e 8 mesi e 5.000 euro di multa a carico di Angioletto Latina e Francesco Salemi, per entrambi è stata esclusa l'associazione armata, 11 anni e 4 mesi e una multa di 4.600 euro ad Adriano Pirrone, 9 anni e 8 mesi ciascuno e l'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata per il marocchino Faikal Baesari, Luigi Calciatore, Stefano Faccio, Rosario Roberto Lentini. Il giudice ha erogato la pena di 8 anni e 4 mesi ciascuno a Tullio Caia, Damiano Lentini, Giuseppe Serino e Tommaso Liotta, 8 anni ciascuno invece per Gianfranco Bottara, Steven De Simone, Pietro Di Mari, Mirko Giardina, Denny Urbino, 7 anni e 4 mesi oltre a una multa di 32.000 euro per Mirko Vaccarella, 5 anni e 4 mesi e 20.000 euro di multa per Alessio Inturri, 3 anni e 4 mesi per Carmelo Campisi. Vaccarella e Inturri sono stati assolti da un'ipotesi accusatoria.